Buongiorno, io stavo lavorando e Cimmi mi faceva compagnia, comunque volevo fare tanti auguri mia sorella, adesso metterò un po' di foto perché oggi è il suo compleanno, auguri mischi, ti vogliamo bene, o no Cimmi Cimmi, sei troppo carino, stai dormendo? Scusami, scusami E come sempre nei miei video, devo farvi vedere cosa mangio Oggi, non me lo faccio vedere, mi faccio vedere, mi faccio vedere E in Giaia Sto Buongiorno, buongiorno, oggi preparazione pane, paninas freschissimo Questi sono dei biscottini salati che ha fatto una mimica Questi qua, gli altri biscotti al cocco, le uova, pomodori e cetrioli, le uova salve, olive, Ponei e il resto, ovviamente il chai, buon appetito Ciao Cimmi Ciao ragazze, come state? Adesso è già pomeriggio e sono tornata dal corso di Turco E niente, non ho fatto due ore così E adesso andiamo a cena delle nostre amici che ci hanno invitati E qui? Ciao Cimmi Cimmi Ciao Cimmi Che sto dormendo Niente Ciao Cimmi Ciao Cimmi Cimmi Ciao Cimmi Buonanotte Buongiorno ragazze, come state? Oggi è una giornata un po' piena Perché stiamo andando a prendere gli ultimi fogli per il mio visto di residenza qua in Turchia E niente, quindi vi portiamo qui E niente, quindi vi portiamo qui Ciao Cimmi Buongiorno Ciao Cimmi Che lo fai? Fastigati Buongiorno ragazze, adesso siamo pronti per andare a fare la richiesta del mio visto di dimora Ecco qui Tutti i fogli In bocca al lupo a noi Buongiorno Buongiorno Ragazze, finalmente ho il visto Adesso siamo venuti a colazione E siamo felicissimi Grazie di aver seguito questo vlog E spero che il prossimo sarà in Svizzera Ciao Ciao